avesse guace dei bisturbis bentornati nel nostro canale allora oggi abbiamo un ospite ciao parla ogni tanto parla e praticamente oggi andremo a fare un trucco da drag queen e niente quindi iniziare tutto qua cosa gli devo dire non so scemo vi lascio il video cominciamo con il primer il primer devo dire la marca? se vuoi? della chanel cioè lui se la tira perché è roba mia è roba sua una semplice colla stick si può usare benissimo questa oppure un mastice o un altro collante diverso cioè cosa serve adesso? che serve per coprire appunto le sopracciglia scotch medico? non morire? cosa vuol dire scotch medico? scotch medico si chiama perché? scotch in seta perché lo sei in? dottore ecco si vanno a tirare gli occhi qua la base con il correttore era una spugnetta andiamo a picchiettare sotto gli occhi dove c'è appunto il correttore procediamo con la copertura del viso non è tutto questo qua è il colore più scuro che è un numero è il numero 7 e serve per alimentare il viso quello più bianco il più chiaro sbagliato è il più chiaro di tutti e va messo sotto gli occhi che è un medio è un 4 che serve per riempire il viso e coprire le ciglia ora con questo pennellino qua andiamo a stendere tutti i punti tirando verso l'alto non ho salutito vaffanculo non me lo fare mai non fanno i versi quando stanno al disco se non stanno al disco colpa mia è vero è colpa mia è vero 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 Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti